ciao amici e amiche benvenuti benvenute allora io non ho ancora capito queste missioni qua salut salut la nuova nave non ce la faccio farla perché devo saccheggiare un posto che poi tra l'altro adesso che sono un po più potente dov'è che è io la birra ce l'ho ne ho 38 perché l'ho già saccheggiata ok devo saccheggiarla dai forza cioè che il mio scopo è mi ricordo in assassin creed cantavano più frequente vabbè se tu fa carta non è comunque non è che prendere verso il pedicicolo però dov'è il dove c'è dove c'è dove c'è dove c'è cosa forza questa barchetta da caspita io questo volevo prenderlo una volta per vedere quanto li faccio di male nulla e lui tanto e io niente e scappiamo quando c'è suo rosso marco c'è una motivazione no per fortuna non è venuta dietro o forse si si secondo me è un po' bene dietro no noi entriamo di qua devo stare a tendere con quelle rosse perché sto di livello troppo troppo alto non è venuta dietro non è venuta dietro bellissimo a voi piace ragazzi scrivetemelo a me si oh 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 hit hold on never compete guardate la posizione! Ancora quello lì? Non lo sono mai dato giù, magari non. Forse sì. Sì, questo non è vero. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. Fine, fine, fine. No, fine. No, fine. Yesterday, I don't have a question The dead! The dead! The rigging is for肌! Fire Popeye who is dead? willkommen Bugle, gun someone. There's a Widget Aufgabe! Ok A me sinceramente non dà Dà una bellissima sensazione Affondare le navi Non mi stanca Quelli sono la birra Mi spiace se ti devo affondare Reload in capitan Hold the science now Get to the broadside capitan Get to the board Get to the board hanno lo che abbiamo bisogno capitanio! vediamo con quell'altra ora Oh Oh Where's that captain Oh Okay Barchette con la birra Birra eccole la Va bene intanto che vado a prendere queste qui Capitaine It's the fleet Captain On our bow The ship is such a All closer They've taken Fire Let's all cooperate Go to your bottom station We won't We're with We are now We're now Bye They need to run back to get the cups of the birra Bu Oh! Oh! Perfetto! Adesso andiamo a prendere la birra! Ciao! Distrutti! Oh! Oh! Ah la birra! Oh! Oh! Ce n'era una con la birra! Nooo! C'era quella lì? Sì! Vabbè da qui ci siamo! Forse è quella lì anche! Sono otto! Non sono pochi! Sì! 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 Grazie a tutti! e poi l'altra che macca una Ok, adesso Devo usare qua Dobbiamo andare a Sant'Anna Non riesco a capire Ok, allora Procura Dell'alcol per Burp La cassa della miniera d'oro Sommersa Ok Sommersa Burtro Burtro They've taken notice of our position, Captain Let us close it up, and they are finished! Oh, fire! Reloading, capitol! Fire over them! They are ours! Get us in lane, and now play! We are under fire! Do not let us talk! Flint Park. Vieni! 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 adesso dobbiamo capire un attimo questa versione blu allora andiamo a Santana, Santane, Santane allora questo è il dlc solo se si compra questo è stato un dimissione becchio Lodini soldini per adesso non voglio parlare troppo in fretta siamo messi abbastanza bene pannello taglio non c'entra niente questo commercia bene ho troppi contratti sì perché sono secondari un po' alla fine no? no no qui facciate a casa Best wishes, friend. Allora, mi sa che io devo andare là. And today? Ok, 41 room. Allora, in teoria abbiamo accettato questo contratto qua. Possiamo darci l'intero da spot? No. Vabbè, andiamo là, dai. Perché il viaggio è lungo. Allora, il viaggio rapido credo che non l'ho fatta. Perché mi ha detto che c'ho del... Vediamo se c'è sulla canna, però. Beh, io mi ha detto di andare. Vediamo se c'è la canna. Vediamo se c'è la canna. Vediamo se c'è la canna. Grazie a tutti. 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 This is what we need to harvest, Captain. This will be now. Let's go. Let's go. Let's go. We need to catch the wind, Captain. Let's go. 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 Grazie a tutti. 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 Perhaps this will be our last deal, Bradz. Hold your position! Grazie a tutti. It's time to go. It's time to go. Wow, wow. It's time to go. 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 C'è quello che ci aspettiamo? Un'imprimazione? Letta forse! Hold on Capitaine! Fire all over! Ok Allora, non vorrei prenderla Ha la voglia di fare accannonate troppo grande Oh Ok, adesso no Se non ci sono altre navi da Non serve una cosa in particolare Per poter prendere i pesci Forse l'alpione E avrebbe anche sì E avrebbe anche da un'imprimazione Wow E' un po' come però portiamo penso che sia qui vediamo un attimo forse perché ho troppi contratti a presto 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 a presto